Ciao! 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 Ragazzi? Ma che ragazzi? Mr. H. Fa o non fa? Fa. E chi è questo Mr. H? H! Ciao ragazzi! Secondo voi Mr. H, fa lo youtuber? Ogni tanto, nella sua stanzetta chiusa, senza che nessuno lo sappia. H! Poi non lo pubblica su YouTube, però fa lo youtuber. Certo. H!